Dunque ho detto abbiamo bisogno di un po' di definizioni e in particolare di definizioni che hanno a che fare con il trattamento del vapore. Certamente queste definizioni sono note a coloro che hanno fatto fisica dell'atmosfera o che stanno facendo fisica dell'atmosfera, in particolare qui definisco il rapporto di mescolamento che è il rapporto fra la massa di vapore e la massa dell'aria. Questa è pari al rapporto fra la densità del vapore e la densità dell'aria, basta dividere entrambi i termini delle masse per il volume di controllo. L'umidità specifica è il rapporto fra la massa del vapore e la massa complessiva dell'aria contenente il vapore. Di solito l'umidità specifica è pari al rapporto delle masse, ma poiché il vapore è comunque molto poco nell'aria, questa parte si può trascurare e quindi l'umidità specifica è all'incirca approssimata dal rapporto di mescolamento. Vale la legge dei gas ideali, dove per ogni gas, sono tutte cose che voi conoscete a mena dito, ma io vi ripeto, tanto se servisse ricordarle, la pressione parziale del gas P per il volume è uguale al numero di moli del volume per la costante universale dei gas e per la temperatura in gradi Kelvin. La costante universale dei gas a sua volta è 8.314 Kelvin, chilogrammi alla meno uno. Anche questa costante dei gas non è di per sé una costante fondamentale, perché il prodotto della costante di Boltzmann per la costante del numero di Avogadro. Questa formula si può esprimere in modo diverso, perché il numero di moli si può esprimere come la massa molare M grande, la massa del nostro sistema diviso la massa molare, quindi la legge dei gas si può riscrivere andando a sostituire il numero di moli, questo rapporto che quindi ci dà PV uguale a M diviso M grande RT e dividendo tutto per il volume si può separare il secondo membro in una parte della densità del gas e per la costante del gas, cioè la costante che non è altro che la costante dell'universale dei gas diviso la massa molare del gas specifico, che nel nostro caso sarebbe il vapore acqueo. Quando la scriviamo in questa forma, quando abbiamo la costante del gas, possiamo considerare d'apporto che la costante dell'aria secca è 287 J per Kg alla meno 1, mentre l'aria umida che contiene vapore è 461 J per Kg alla meno 1 per Kg alla meno 1. Il rapporto fra questi due numeri, che è in sostanza il rapporto fra le masse molari dell'aria umida e dell'aria secca, compare spesso nelle nostre formule ed è pari a 0.622 circa, 287 diviso 461. Vale la legge dei gas, vale la legge di Dalton rispetto ai gas, quindi la legge dei gas ideali, vale per ciascuno degli elementi che compaiono, cioè la pressione complessiva del gas in atmosfera è la pressione dell'aria secca PD più la pressione relativa del vapore, che di solito viene chiamata con la lettera E e la vedete qui nella terza formula in basso. Ciascuna di queste due equazioni obbedisce alla legge dei gas ideali scritta nella forma ultima che vi ho prodotto. del rapporto Epsilon fra le costanti dei gas del vapore e dell'aria secca, di questo vi ho già parlato, dicevo, è uguale a circa 0.622. In base a questo si può anche esprimere il rapporto di mescolamento in funzione delle pressioni parziali, per esempio è facile provare usando la legge dei gas ideali che il rapporto di mescolamento è pensato come ρV diviso ρD, cioè la costante dell'aria del vapore diviso la densità del vapore diviso la densità dell'aria secca è uguale ad Epsilon, questo è 0.622, per la pressione del vapore diviso la pressione normale meno la pressione del vapore. Poi siccome la pressione del vapore o la tensione di vapore, se vogliamo pensare a una condizione di equilibrio è piccola rispetto alla pressione dell'aria, normalmente il rapporto di mescolamento è anche approssimato come, e quindi anche l'umidità specifica, di conseguenza è anche approssimato come Epsilon E diviso P. Un altro termine per misurare l'umidità relativa è l'umidità relativa percentuale, che altro non è che il rapporto fra l'umidità effettivamente presente nell'atmosfera e l'umidità definita dalla tensione di vapore. La tensione di vapore, vi ricordo, è quella tensione, è la pressione del vapore in equilibrio con un liquido adesso sottostante, di cui avevamo parlato nella lezione scorsa. Sempre utilizzando la legge dei gas ideali, si può sostituire il rapporto fra le pressioni, fra la pressione effettiva e la pressione e la tensione di vapore, il rapporto della Q diviso Q star, cioè le umidità specifiche del calore, sì, del calore, delle umidità specifica effettivamente presente nell'aria e l'umidità specifica specifica a saturazione. Pressione specifica a saturazione o tensione di vapore, come si chiama, e umidità specifica della tensione di vapore sono entrambe funzioni della temperatura e la legge che dà questa funzione, questa dipendenza, è la legge di Clausius Clapeyron. Quindi queste cose queste cose sono da tenere presenti, immagino che non ci sia molto da chiedere su queste cose che vi dovrebbero essere note e ora passiamo alle parti che sono più propriamente inerenti all'evaporazione. Grazie. 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 Grazie.